Buongiorno, iniziamo la settimana parlando di burocrazia e vergogna. Honoré de Balzac descriveva la burocrazia come un gigantesco meccanismo azionato da pigmei. Più prosaicamente Karl Marx ne parlava come di uno stato immaginario accanto allo stato reale. Ma lo scrittore che ha più incarnato il conflitto tra la macchina burocratica e l'essere umano è sicuramente Franz Kafka. E di fatti kafkiana è diventata la paradossale vicenda kazaka, come diceva già Paola. È di conforto sapere che l'Italia ha revocato l'espulsione della signora Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov. Era stata catturata insieme alla figlia in un ride notturno di una cinquantina di uomini delle nostre ardimentose forze armate nel difficile scenario di Casal Palocco. E in soli tre giorni era stata rimpatriata addirittura su un aereo privato verso il Kazakistan. Dopo la revoga dell'espulsione quel poveraccio di Mukhtar ha addirittura ringraziato il premier Letta. Sua moglie e sua figlia comunque ora sono lì, non possono uscire dal Kazakistan e ci vorrà ben altro che un blitz della Digos per farle tornare in Italia. Nella surreale vicenda il ministero degli esteri ha tenuto a precisare di averle solo inviato un fax per rispondere alla domanda se la signora avesse o no un passaporto diplomatico. A nessuno della Farnesina che fosse un dirigente, un funzionario o anche un semplice uscere è venuto in mente di collegare questa signora con un dissidente politico di un altro paese. Perché come ha dichiarato la Bonino il ministero non ha accesso ai dati relativi a cittadini stranieri ai quali sia riconosciuto da paesi terzi lo status di rifugiato politico. Ora a prescindere questo paese terzo è la Gran Bretagna che fa parte del patto di Schengen ma poi se non lo sa il ministero degli esteri queste cose chi le deve sapere? E oltretutto spende per il suo personale, abbiamo il budget ufficiale, più di 830 milioni di euro l'anno questo ministero quindi qualcosa magari deve sapere. Non entriamo nel merito poi se questa cosa sia avvenuta all'insaputa o meno del ministro dell'interno Alfano. Tanto è gravissimo in entrambi i casi, è però incredibile che nonostante il pasticcio il governo abbia sentito la necessità di dire che il procedimento di espulsione è stato formalmente corretto. Formalmente corretto, ecco che esce fuori proprio il corpaccione della macchina burocratica. Il passaporto sembrava falso, i timbri sull'ordine di espulsione c'erano tutti, insomma tutto in regola. Ma allora se è tutto in regola come mai adesso sia Alfano che Labonino dicono qualcuno dovrà pagare, cadranno diverse teste? Quali teste cadranno lo scopriremo giovedì durante il question time, forse durante il question time di Alfano alla Camera. Ed è vero che la vicenda kazaka è veramente grottesca e kafkiana e soprattutto vergognosa, ma siccome in Italia non c'è mai limite al peggio, voilà, ecco l'ultima esternazione di quel gigante del pensiero occidentale che si chiama Roberto Calderoli. Non pago di avere fornito materiale di barzelletta all'intero continente giudaico-cristiano, di essersi intestato una delle peggiori leggi elettorali del mondo, nonché incostituzionali. Adesso se ne è uscito con l'ennesimo insulto ad una persona di pelle nera, che oltretutto incidentalmente è anche un ministro della Repubblica. Dire che qualcuno ti fa venire in mente un orango è veramente un'affermazione fuori scala, non ci sono parametri sufficienti per biasimarla, se non quelli che potevamo avere tutti noi più o meno in seconda elementare. Ma qui si sa, siamo in presenza di un pervicace ripetente e nel suo caso repetita non juvant. Basta ricordare, nel 2003 Calderoli se ne esce con un paese civile non può fare votare dei bingo bongo che fino a qualche tempo fa stavano sugli alberi. Nel 2005 gli immigrati tornino nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie. Nel 2006 con una salva di dietro, una davanti, le navi dei clandestini non partirebbero più. Nel 2007 essere culattoni è un peccato capitale. Nel 2008 ci sono etnie con una maggiore propensione al lavoro, altre che ne hanno meno. Nel 2009 non vorrei mai fra cinque anni o un mese ritrovarmi con un presidente abbronzato. Nel 2010 andremo a Bruxelles, noi padani porteremo un po' di saggezza della croce a quel popolo di pedofili. Insomma, altro che onorevole, come va a scrivere Michele Serra, uno come Calderoli non se lo sarebbe potuto immaginare e prevedere neanche Nostradamus nelle quartine sulla fine del mondo. E poi c'è il PD anche, che è protagonista della settimana che comincia, ne accenniamo appena. Innanzitutto per la proposta di legge Zanda-Mucchetti che prevede di modificare la legge sull'inelegibilità del 57, quella di cui si parla tanto per Berlusconi, e farla diventare incompatibilità. Grillo l'ha immediatamente bollata come l'ennesima sciabella di salvataggio del PD. Menuelle è lanciata a Berlusconi, ironizzando su un letto trasformato in amleto del partito che ha deciso per l'ennesima volta di non essere. Ma c'è anche un secondo motivo per parlare del PD, che se ne parlerà molto questa settimana, che è appunto la tournée di Renzi in Europa. Come una delle tante rockstar in giro adesso per il continente a fare concente, anche lui fa la sua tournée europea. In gran segreto giovedì scorso ha incontrato la Merkel e si accinge a visitare Parigi, probabilmente anche Londra e forse addirittura Washington. Grillo anche qui ha battuto subito e lo paragona a un valvastino medievale che va a incontrare il suo feudatario rendendogli omaggio. Come mai comunque il sindaco di Firenze voglia incontrare i capi di governo di tutto il continente e rimane misterioso, se non come autopromozione, immaginando un'autopromozione di se stesso come futuro premier del paese? Siamo invece certi che il tour di Renzi venga pagato da lui in prima persona, perché sarebbe difficile immaginare degli impegni istituzionali e per di più segreti di un comune italiano con Parigi, Berlino, Londra e Washington. Almeno tutti questi viaggi contribuiranno a risollevare un po' il turismo, la crisi del turismo che vede 8 milioni di italiani quest'anno impossibilitati a fare le vacanze per motivi economici. Voi direte, vabbè, si risolleveranno, si consoleranno con i saldi. No, perché anche i saldi sono andati male, meno 15%. Speriamo almeno che Renzi porti tanti regali ai suoi amici europei. Grazie.